Ciao Sagittario, benvenuto sul mio YouTube canale dei Talents Altarobai che ci do, benvenuto su questa lettura per marzo 2024 per l'amore. Vi chiedo Sagittario di non far forzare questa lettura, se non ti corrisponde, questa è una lettura generale. Se vuoi una lettura privata con me, trovi tutte le informazioni sul mio infobox. Vediamo che succede per te Sagittario, se è una luna, un ascendente, un venere, qualunque pianeta, su questo segno può essere questa lettura può far per te. Iniziamo. My love team, datemi per il mio Sagittario, per l'amore. Venere, love and beauty, Sagittario tu sotto il mazzo, ok. Può essere che hai a che fare con Sagittario, o tu hai Venere, Sagittario in Venere, no Venere in Sagittario, ora. O è governata da Venere questa persona con cui ha a che fare Toro o Bilancia. Vediamo. Dammi per favore, make the effort, anche tu, Leone l'ha avuto. Heart to heart conversation. True love, vero amore sotto il mazzo. Fai il primo passo, make the effort, fai il passo. Cuore a cuore, conversazione da cuore a cuore, ok. Sembra molto romantica. È come che qualcosa vorresti aprirti, è come che qualcuno ti dà il via. Ok, Sagittario, adesso puoi, adesso vai, adesso puoi. Sei, tu, sei di bastoni, che è successo, la morte per il focus, tre di bastoni, quattro, no, che quattro, il de herifant, il tre di denari per l'ostacolo, quattro di coppe per cosa non vedi, tre di spade per cose ti puoi aspettare, e il generale e la regina di spade, otto di bastoni sotto il mazzo. Ok, è sempre qua che, è come che vorresti, c'è una comunicazione, c'è una cosa qua che vuoi dire, dopo può essere una cosa che tu pensi che è finita, tanto non hai più niente da perdere. Poi dici, io intanto ci provo, e più di un no non mi arriva, non mi può arrivare, perché è già finita qualcosa. Tu mi dici, è terminata già qualcosa, però non mi dici cosa, però è giusto una cosa che voglio dirla ancora, voglio esprimermi, voglio esprimermi, esprimere, una cosa che hai aspettato per tanto tempo, aspetti qualcosa di succedere, però hai molta fede, o ti porta molto fede, o ci ripensi. Ci puoi anche che ci ripensi, perché, come che tu mi dici, sì, mi stanno chiedendo di rimanere amici, colleghi, compagni, quello che è. No, ma tu non vuoi, non vuoi, perché sennò ti fa soffrire più di tutto. Dammi la regina di spade. Il cavaliere di denari, sete di coppe e il matto. Sai quando, non lo so, quando entriamo a un esame, per esempio, no, quando vai su tutti i temi, no, ripassi tutto, ripassi, fa, ok, quello è così, quello è così, quello è così, ok, ti chiedi con qualcun altro, facciamo pratica, mettiamoci in pratica, come potrei dirla, come potrei farla, e alla fine, quello che ti viene chiesto, c'è agitare, non puoi, non puoi programmare, perché sembra una comunicazione qua che comincia a essere un po' nervosa, o nervosa. Però te la prendi, non è che hai un appuntamento, esatto, tu dici come va, va, come andrà, andrà. Però ti sta prendendo tempo quel cavaliere di denari, perché è come che non hai ancora quel coraggio in più. Tipo, tanto io posso, io posso interagire con quanto voglio io, intanto passiamo, ripassiamo i compiti, una cosa così, mi viene. Dammi il 6 di bastoni per il presente, 6 di bastoni di nuovo, wow. Eppa, il diamante, 6 di denari, dammi la morte per il focus, 2 di denari, l'imperatrice, eh no, che imperatrice, da High Faces, che sarebbe l'istinto, e il cavaliere di spade. Guarda, non so, perché tu mi dici, veramente cerco a non programmare, no, a non andare veramente sul naturale. E quando arriverai, e sarà a marzo questo, hai una situazione qua, che come che, o prenderai, sì, può essere che fare appuntamento, o va alla SPAC, non so come fai, interagisci, però sempre che vai totalmente in un'altra direzione, sagittario. Per niente così come pensavi che andasse, o pensi che vada, perché in tutto un tratto, sai quando noi siamo pronti a dire la nostra, no? Tipo, mo, te faccio vedere io, mo, guarda che te dico, ma io te ne dico di tutti, no, lo so, una cosa così, siamo un po' rebellina, o rebellino. E poi alla fine, e non ti esce più niente, perché? Sembra una cosa così tipo, tutt'altro a quello che pensavi di saper dire, o voler dire, sagittario. Perché ti sembra ancora molto importante, ti è importante questo, sì, molto, tanto, tantissimo. Dammi The Herfand per il futuro. Opa, opa, otto di bastoni, quattro di bastoni e la stella, e il cinque di spade sotto in marzo. Non pensavi mai di arrivare a questo momento, con questa situazione. Perché sembra che tu, come che ti vuoi esprimere una cosa, non me lo dici cosa, però perché con la regina di spade tu mi dici, no, mo ci faccio io dare a loro, o lei o lui. Però se la mente così basta, o mi devo togliere una cosa, no, dalla coscienza, o devo dire qualcosa che la voglio dire. Una cosa così mi viene. Invece, nel futuro, sembra che andrà tutta in un'altra direzione, sagittario. Non pensavi mai di arrivare a questo punto, con questa persona. mai, mai. Dammi tre di denari per l'ostacolo. La luna, sei di spade e dieci di denari. Ah, di trovare un compromesso. E come che sta, non è facile, perché tu mi dimostri la luna, o lo sai che non sarà facile perché mi dimostri la luna, per trovare un compromesso. Tu mi dici, se troviamo quel compromesso, allora andrebbe benissimo, però non sarà facile. me lo confermi, me lo confermi, anche perché ci tieni, poi dici sì, per quel compromesso, ah, dovremmo fare qualche sacrificio. O tu, sagittario, o loro, non lo so. Poi dici sì, quel compromesso sarà difficile, però non vuol dire che è impossibile. Dammi quattro di coppe. Di nuovo l'ereofant, per cosa non vedi, la giustizia, e il sole. Sai quando l'universo ci toglie qualcosa, per forza, per quante volte non diamo più il valore. Adesso non è che colpa tua, sagittario, io sopra, non in generale, l'imperatore sotto il mazzo. Quando non diamo più valore di quello che abbiamo veramente, cosa possiamo dare valore, perché ce lo diamo il valore, l'universo tante volte ce lo toglie via, per capire veramente cosa abbiamo di fronte, perché l'abbiamo di fronte, e cosa vogliamo fare con quella situazione che abbiamo di fronte. Di nuovo, non penso che tu mai potessi pensare di capitare, ricapitare, in una situazione del genere a marzo. Perché non, perché può essere che anche la tua fede stava cambiando, e tu pensavi che il tuo destino stava cambiando. invece io penso, come la sto vedendo, che l'universo stava cominciando a avere farti a te, o anche a loro, i test, se veramente la volavate, entrambi, no? Dammi il tre di spade, per cosa si può aspettare, sì, non dobbiamo, no? Di un, di un, come si dice, di un, come si dice, aspettate, formicola, di una formicola, dobbiamo portarla sull'esagerazione, tante volte, perché tante volte noi siamo umani, io dico umani, la ruota della fortuna, noi umani esageriamo sempre un po', tanto, tantissimo, e, invece, sono, non sono, motivazioni, non sono neanche problemi grandi, no? e di capire che tante volte noi, come si dice, esageriamo a non vedere quello che abbiamo davanti a noi, sagittario, sai quando è tutto dovuto, no? Quando pensiamo che tanto è tutto dovuto, no? Che di sapere che per questa situazione non è tutto dovuto, che hai la fortuna di averla, però è certamente anche viceversa, è tutto e due, non parlo solo per te, sagittario. Il mago, otto di spade, e il dieci di spade, e la giustizia sotto il mazzo. tante volte quando noi manifestiamo in un senso, anche in un stato di confusione, o quando pensiamo troppo, non va bene, per niente, anzi, va proprio alla rovescia, Va proprio all'opposto. Invece così cominci a capire anche perché andava tutto all'opposto, che tu, tu e l'altra persona siete in due, sono sempre in due, sagittario, quello lo dico sempre, a manifestare delle situazioni che vi portano vantaggio, sia a te, e allora, sembrano sempre due. Per questo sicuramente, e io credo sia tu e l'altra persona, la tua persona, sagittario, l'avete capito. sagittario, un like se ti è piaciuto, noi ci vediamo molto presto, domenica, con la mia lettura domenicale, un caro saluto alla Tuluana, e ciao ciao.